Prepariamo insieme la golosissima New York Cheesecake che può sembrare difficile ma con qualche trucchetto viene fuori veramente che è una delizia Cominciamo dalla base, quindi sbriccioliamo i biscotti e uniamo il burro e la cannella Ti consiglio un biscotto che abbia non troppo burro visto che già ne aggiungiamo altro Il composto finale deve sembrare quasi della sabbia bagnata Poi prendiamo la nostra teglia che avremo precedentemente ricoperto all'esterno con carta stagnola e pellicole per renderla impermeabile Versiamo circa due terzi della base e cominciamo a compattare con un bicchierino partendo questa volta però dai bordi In questo modo riusciamo a regolare meglio lo spessore complessivo della crosta e quindi non finiamo magari con una base che sia troppo grossa Per me è perfetto anche perché io non sono un grande amante della crosta della cheesecake però in questo caso ci sta proprio In frigorifero e cominciamo a preparare la base È importantissimo che tutti gli ingredienti della base siano rigorosamente a temperatura ambiente Questa ricetta mi piace molto perché usa un mix di rubiola e ricotta setacciata Quindi il prodotto finale è molto liscio, molto setoso Combiniamo tutti quanti gli ingredienti e in questo caso il segreto è non mescolare troppo l'impasto Altrimenti incorporiamo troppa aria che in cottura si gonfierà e poi alla fine si creeranno quelle crepe che sono bruttissime Ecco perché infatti sbattiamo le uova ancora prima di averle aggiunte Quindi assembliamo l'impasto prima grossolanamente e poi utilizzando una frusta metallica male L'ultimo tocco per garantire ancora più compattezza alla nostra torta è aggiungere un cucchiaino di farina doppio zero Versiamo il tutto nella base fredda e trasferiamo in forno, questa volta però in un bagno Ossia metteremo la teglia con la cheesecake all'interno di una teglia più grande tipo una bistecchiera Verseremo acqua bollente e faremo cuocere per il tempo indicato Ora il trucco più importante è quello di sfornare la cheesecake quando al centro è ancora un po' ballerina Anche perché poi la cottura continua fuori dal forno mentre si raffredda Ora è importantissimo aspettare e pazientare Quindi prima si fa raffreddare, poi in frigorifero tutta la notte e poi la decoriamo a piacere con la nostra frutta preferita Sentirete com'è cremosa ragazzi, secondo me quando la portate vi faranno un monumento